A quattro mesi e mezzo di governo la maggioranza si spacca, si divide. Sulla risoluzione circa il punto nascita di Sulmona è stata bocciata quella presentata dalle opposizioni ma la Lega ha disertato il voto sull'esponente della maggioranza scoccia in questo caso ed è passata la risoluzione solo ed esclusivamente grazie al voto delle opposizioni. La domanda è, intanto, tiene questa maggioranza? E la seconda riguarda il punto nascita di Sulmona. Se si in qualche modo diserta il voto su una deroga che si intende chiedere quelle intenzioni sono vere o in realtà non sono veritiere come immaginiamo noi. Questo è il punto principale. Altro voto che ci ha lasciato perplessi è quello su Ortona. Si condivide che tutta l'area chirurgica di Ortona ormai da mesi non lavora più e si rischia davvero la chiusura di quel presidio, di quella larga parte di prestazioni di eccellenza e di qualità che erano state l'oggetto principale del nuovo obiettivo di riqualificazione del presidio ospedaliero e poi si boccia una risoluzione che chiede esattamente questo. Ecco perché noi riteniamo che in realtà questo governo regionale da un lato fa gli annunci e dall'altro poi le intenzioni vere non sono assolutamente quelle che sono annunciate o promesse sia durante la campagna elettorale sia nei vari viaggi che si vanno facendo in queste settimane e in questi giorni. Grazie. Grazie.